25 novembre è la data che è stata scelta per celebrare la violenza contro le donne. Il prefetto Palmisani nell'ultima conferenza stampa, proprio qui in comune, ha detto che la violenza sulle donne è in leggero aumente. Quale iniziative avete preso per contrastare questo fenomeno? Le iniziative che possiamo considerare che abbiamo presentato oggi in conferenza stampa sono soprattutto di tipo educativo e culturale. Si diceva che il passaggio è questo, oltre ad intervenire effettivamente con le forze dell'ordine nel caso di denunce, eccetera, eccetera, quello che c'è da cambiare è proprio il pensiero nei confronti delle donne, quello che c'è è un pensiero di prevenzione. Per cui educativo, educare le nuove generazioni al rispetto, per cui rispetto tra i generi sicuramente è un punto importante. L'altra cosa è l'aspetto culturale. Quello che noi proponiamo proprio in occasione della giornata del 25 novembre è una serie di attività, di spettacoli, di conferenze che ci permettano di discutere di questo tema e di sviscerarlo in modo tale che dal punto di vista culturale si riesca a trattare il tema con delle accezioni positive che possano portare alla denuncia, delle violenze anche minime perché quando io lascio passare una violenza minima probabilmente poi questa violenza prima o poi esploderà anche in situazioni più gravi. Abbiamo deciso di organizzare un convegno insieme all'amministrazione comunale il questore Marco Dorisio e il sindaco sono stati convinti nel parlare del fenomeno della cosiddetta vittimizzazione secondaria. Quindi abbiamo pensato di creare un evento che si chiama Io non ti giudico, ti ascolto proprio per far capire che noi ci stiamo formando, tutte le istituzioni ci stanno formando per poter accogliere la donna, per poterla ascoltare, per non giudicarla e quindi cercare di far aumentare il numero di denunce proprio perché nel caso di violenza di genere noi sappiamo che il numero scuro è molto alto per cui ci sono molti casi di sommerso. Noi siamo un nodo come Polizia di Stato, come colleghi dei Carabinieri della rete Artemide il comune di Monza è capofila in Brianza della rete Artemide che è una rete di 55 comuni e vuol dire essere pronti ad avere una formazione comune, ad avere un linguaggio comune e ad accogliere le donne vittime di violenza tutti quanti nello stesso modo.